Ciao ragazzi, oggi come potete vedere c'è anche Luca Oggi siamo a Campo Carri, faremo un paio di piste E quindi casiamola Ci vediamo nei clip successivi Ciao 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 Uno Così ti filmo, ciao Manda tutto, checco Cazzo Oh, mi è arrivata una roba addosso Ciao ragazzi, ora stiamo risalendo Che Luca ha bucato, quindi siamo fermati a riparare Ora non so se ci rifremmo di nuovo questa pista O un'altra Quindi vedremo dopo Questa è un'altra Grazie per la visione Bene ragazzi da questo video è tutto Lasciate un like, iscrivetevi E ci vediamo al prossimo video